Sentiamo cosa ha detto il Presidente della Commissione, il Procuratore Capo della Commissione Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo. Sentiamo. Le condotte attribuite al sottotente estreano mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente, ripeto, impoteticamente infedele. Ecco Di Pietro, lei è stato un uomo che ha fatto la storia di questo paese, mani pulite. Lei che sensazione ha? Condivide le parole di Melillo che è difficile che rimanga isolato a dei singoli casi ma ci sia qualcosa di più grosso dietro? Io sono estremamente convinto che ci siano innanzitutto tanti striano. È un po' come quando abbiamo scoperto il caso Palamara. In realtà oltre Palamara ci sono stati, forse ci sono ancora, anzi sicuramente, tanti altri Palamara di cui non abbiamo scoperto granché. Così come ci sono a volte dei giornalisti che non prendono una notizia che è avvenuta ma fanno in modo che si costruisca la notizia. Questo è un mondo malato in cui appunto, in questo mondo malato parallelo, c'è chi si fa gli interessi propri ai danni della collettività e della democrazia.